una videocassetta di Roma la trovo con mia madre a 48 anni guardate che bella che è guardate che bella donna ecco sta facendo una caricatura sono un po' a Roma adoro mi è bella che adesso si sta facendo di bella ci manchiamo anche un po' del genere ecco qui c'è cosa a Fontana dei trei no? ciao Claudio è Roma ma lei è bella so